Ben ritrovati e ben ritrovati su In Genere Horror, io sono sempre Greg con un video dedicato ad un film uscito lo scorso anno ma che va assolutamente menzionato, merita di essere consigliato, promosso e consigliato, il titolo è L'Angelo dei Muri. La regia di Lorenzo Bianchini è un regista che probabilmente qualcuno di voi già conosce, ha fatto vari lavori tra cui forse più conosciuto è Across the River, Oltre il Guado, un piccolo film a basso budget che era passato se non sbaglio su Netflix, credo di averlo visto proprio lì, è un film molto molto bello, un horror d'atmosfera fatto con pochi soldi, tante idee e tanto talento, ne parleremo del talento che ha questo regista e che ha dimostrato anche in questo L'Angelo dei Muri. Un film che avrebbe meritato e strameritato una larga distribuzione in sala perché merita di essere visto in sala, perché ogni inquadratura, ogni dettaglio, ogni situazione, la bellezza, nella messa in scena dal punto di vista proprio cinematografico, la bellezza di questo film merita, meritava e merita di essere visto in sala. C'è la possibilità di recuperarlo in home video, c'è la possibilità di recuperarlo in noleggio, in acquisto digitale, fate voi, questo è consigliatissimo. Probabilmente l'avete già visto, qualcuno di voi lo ha già visto, però ripeto, era difficile recuperarlo nel momento dell'uscita al cinema perché le sale che l'hanno proposto erano veramente pochissime. meritava una distribuzione ben maggiore, meritava e merita un successo di pubblico enorme perché è un film che riesce a dare emozioni, riesce a trasmettere con una piccola storia, tutta incentrata e concentrata in un appartamento, riesce veramente a dare molto. La storia narra in poche parole, pochissime parole, la storia di le vicende di un vecchio, di un anziano uomo che vive da solo in un vecchio appartamento messo non tanto bene in questo appartamento ma molto grande e porta avanti le sue abitudini semplici, abitudini quotidiane finché non riceve l'ennesimo e decisivo avviso di sfratto per cui da lì a poco deve lasciare l'appartamento e si capisce, si percepisce subito quello che è l'attaccamento di questo nostro protagonista, questo anziano signore, l'attaccamento verso questo appartamento, verso questa casa e il fatto che subito noi lo diamo questo significato a delle difficoltà economiche che potrebbe avere e probabilmente è quello uno dei motivi ma poi ci sarà dell'altro che scopriremo durante la visione del film. Ricevuto lo sfratto non si dà per vinto e riesce a nascondersi creando uno sgabuzzino all'interno di questo grande appartamento tirando su un muro con dei mattoni, con la malta e mettendo una gratta sotto per poter entrare e uscire da questo piccolo sgabuzzino che si è creato che è una piccola finestrella e di lì si porta dentro quello che gli serve, il mangiare, quello che può per non lasciare la casa che gli è tanto cara e capiremo quanto cara o quanto perché non voglia, fino a che punto non voglia lasciarla. Nel frattempo la casa verrà affittata ad altre persone, nello specifico ad una madre single di una bambina che ha dei notevoli e seri problemi di vista. Lui osserverà quotidianamente con dei buchi nel muro, attraverso la gratta, ascoltando, osserverà la vita quotidiana di questa madre e di questa bambina, assisteremo anche al rapporto madre-bambina e assisteremo soprattutto a una vicenda che è concentrata poi su questo aspetto quasi favolistico perché tutto quello che vedrete all'inizio del film, che potrebbe essere qualcosa di non coerente, non verosimile, aspettate, guardatelo tutto ad un fiato perché poi tutto torna, perché sostanzialmente è una sorta di favola, è un thriller fantasy, non è un horror ma è comunque un thriller teso ma al tempo stesso una favola perché ci racconta la storia toccante di un uomo solo, triste e capiremo il perché, con l'evolversi della vicenda, una madre, le difficoltà nei confronti, nella gestione di una figlia, una storia triste da questo punto di vista, toccante, emotivamente coinvolgente. E al tempo stesso una bella favola, delicatissima, perché il delicato tocco del regista, lo si vede tutto nel tratteggiare quella che può essere anche il rapporto che si instaura, vedremo particolare, molto particolare, tra il vecchio ex proprietario, ex abitante della casa e i nuovi inquilini, la madre appunto di questa piccola bambina che ha problemi di vista. Un rapporto dovuto al fatto che la bambina vede delle ombre solamente, ma sente, sente dei rumori e percepisce la presenza appunto di quella che lei chiama l'angelo dei muri all'interno della casa, ma poi tutta una serie di situazioni e di evoluzioni che scopriremo durante la vicenda che porta a un colpo di scena, che porta a un bellissimo finale, bellissimo nel senso appunto di vista cinematografico e di racconto e appunto di vista anche proprio di sceneggiatura, scritto molto bene, un finale toccante, emotivamente coinvolgente, che passa attraverso anche un bel colpo di scena, come dicevo. È una... quello che volevo statunitare è, a parte la bravura degli interpreti, soprattutto del protagonista, visto che il film si incentra soprattutto su di lui, ma anche gli altri, che si vedono un po' meno, sono tutti perfettamente in parte, ci sono momenti tristi, ci sono momenti di piccola ironia, momenti pochi, ma c'è una scenetta curiosa riguardo poi alla grata che viene scoperta dall'imbianchino di Tuno che deve sistemare la situazione, ma non voglio svelare niente perché ce ne sono di situazioni interessanti. C'è il thriller, la suspense, di quando il nostro protagonista deve uscire di volta in volta togliendo la grata e stando attento, magari di notte facendo silenzio, recuperando l'acqua da bere, recuperando qualcosina da mangiare senza farsi scoprire, perché in realtà tutto deve essere mantenuto in silenzio, in segreto. Direte poco verosimile, aspettate, guardate il film perché tutto torna, perché tutto... tutti i tasselli però torneranno, perché ogni particolare è studiato alla perfezione, il fatto che ci sia una finestrella all'interno di questo sgabuzzino che lui possa vedere fuori, le finestre che sono un elemento importante, finestre che sbattono continuamente per il forte vento, ci si trova a Trieste, a metà di Trieste, ed è... e sono giornate molto ventose, fredde e ventose. Il fatto che il nostro vecchio personaggio possa guardare e guardi spesso attraverso le finestre, di momenti, addirittura un momento che è un palesemente cicocchiano, di osservazione di un qualcosa che avviene nel palazzo di fronte, ma è sempre tutto riguardante il personaggio, è sempre tutto rivolto a se stesso, questa sua triste vita, questa sua triste vicenda che scopriremo di volta in volta, che scopriremo anche grazie a quello che lui vive guardando questa famiglia che è venuta ad abitare lì e che sostanzialmente sembra fargli compagnia, fa compagnia, gli fa compagnia, ma vedremo poi come. E appunto quanto il film riesce ad essere lento, lento perché si prende i suoi tempi, lento perché il nostro protagonista si muove lentamente, anche se è sempre veloce e scaltro a nascondersi quando sta per essere scoperto. Il rapporto che riesce ad instaurare dolcissimo nei confronti della bambina, perlomeno le prime volte che li vediamo quasi a contatto, quasi a sfiorarsi, quasi a venire, ad essere scoperto. Abbiamo sempre questa sensazione che lui possa venire scoperto e cosa succede, cosa può succedere se alla fine viene realmente scoperto, perché poi, prima o poi, quanto può rimanere segreto questo sgabuzzino? Quanto può farla franca una persona che sta nascosta lì dentro, che deve mangiare, che ha bisogno di uscire, che ha bisogno di muoversi? Però ecco, tutta la vicenda è anche un thriller e non solo, è anche una favola e non solo, è dramma, è emozione, è sentimento, c'è tantissimo, c'è molto, soprattutto verso il finale, che chiuderà una vicenda che è veramente molto intensa. Il tocco del regista lo si vede grazie al riuscire a mettere in scena e a dirigere un film con la delicatezza quando deve essere delicato, con la forza quando deve essere forte, con la suspense e la tensione del thriller quando deve essere thriller, con il tocco della favola, perché sembra a un certo punto essere una favola, insomma è un film riuscitissimo sotto ogni punto di vista. Ecco perché lo avrei volentieri messo e lo faccio retrativamente, lo metto dentro ai migliori, assolutamente ai primissimi film dell'anno del 2022 ed è veramente un peccato non averlo visto in sala. Avrei voluto farlo perché di Lorenzo Bianchini avevo fiducia o fiducia, nel senso che so, ho scoperto grazie da Cross the River, oltre in guado, qual è il suo talento ed ero certo che avrebbe fatto un film di un certo livello. Non mi aspettavo questo livello, perché poi si tratta di un film a basso costo, è vero però anche che c'è l'abilità di essersi circondato, la produzione ovviamente è essersi circondata di attori molto bravi, lui come regista e soprattutto un direttore della fotografia che ha lavorato anche con Herzog e che quindi ha fatto un lavoro molto interessante a livello di fotografia. Ma tutte le inquadrature, tutti i singoli dettagli sono funzionali al racconto e a quello che poi il film ci vuole dire e ci vuole comunicare. L'uso dei suoni notevolmente enfatizzati con le finestre che sbattono per questo vento forte, che queste doppie finestre hanno gli scuri all'esterno ma ci sono anche di doppi vetri, quindi tutta una serie di operazioni molto macchinose quando bisogna chiudere queste finestre perché il vento entra, entra la pioggia, entra la neve perché un giorno è particolarmente freddo. Insomma ci sono tantissimi dettagli che vanno osservati, un film da guardare tutto ad un fiato perché oltre, nonostante sia lento e poco dialogato, i dialoghi ci sono e sono quelli giusti, sono molto belli tutti, c'è un ritmo che è incessante perché c'è sempre una tensione di fondo che è quella di vedere, di assistere in prima persona a quello che è la vicenda di un personaggio e quello che sono i suoi stati emotivi, dalla tristezza all'emotività a quello che sa, la paura di essere scoperto e al tempo stesso questo avanti, indietro, fuori e dentro da questa piccola stanza dove lui cerca di detenersi attaccato a questa casa. Tutto verrà scoperto e verrà rivelato durante l'evoluzione del racconto fino appunto all'efficacissimo, all'efficace e ben riuscito finale. L'ho già detto mille volte, probabilmente l'ho consigliato mille volte, quindi non voglio andare oltre, è un film che mi ha dato questo e che vorrò rivedere sicuramente e che avrebbe meritato appunto il grande schermo. Purtroppo la distribuzione tante volte, troppo spesso è di questo tipo, bisogna avere più coraggio nell'investire nella distribuzione perché le produzioni ci sono e questo film ha avuto la possibilità per quello che è la resa, per quello che ho visto io, ha avuto la possibilità di essere realizzato in tutto e per tutto. Non manca di niente, non si vede carenza di budget in nessun momento, nessun secondo del film, nessuna inquadratura. Funziona tutto perfettamente. Quello che non ha funzionato è una distribuzione troppo esigua per poter dare giustizia ad un film che avrebbe dovuto essere visto da tutti al cinema sul grande schermo. Ditemi la vostra se l'avete visto, consigliato guardatelo se non l'avete ancora visto, recuperatelo in un video, recuperatelo in digitale, fate quello che volete, ma questo film va assolutamente visto. Questo è tutto e alla prossima.